Eh beh, avete capito Duniseni c'era quello che si lamentava Cosa? No no, non lo tieni, non lo tieni Lo stavo registrando Assolutamente sì No 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 no, non lo tieni Così, e quindi praticamente Adesso giochiamo alla caccia al tesoro Praticamente adesso Gabri mi nasconderà la mia bellissima armatura Eh ma non so se lo spazio, ah sì ce l'ho per fortuna lo spazio Gabri e nonno andate a nascondere la mia armatura via Sì 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 sì, va bene va bene Te non guardare però eh Eh parlate insieme ancora una volta vi faccio andare Ah scusi chiedo perdono No Dalla parte del mondo cos'è successo? Cosa? Mi sa che, allora non siete troppo cattivi perché se no ci metto mezz'ora a trovarla Perché io parlo anche Eh sì 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 Quindi questa cosa, eh beh, ah che cos'è che c'è Ah giusto O passamolo dannare No scusami, no non ti permetterei mica No non ho detto cosa, cosa, no no Non hai detto nulla? No ho messo l'elvetto invece di Cos'è che hai messo? Ho premuto su l'elvetto invece che mette Che nasconderlo Allora Fermi un attimo Prima di tutto Parla uno e poi parla l'altro Esatto perché se no non si capisce Cioè già non ho proprio capito io Figuriamoci i duniziani da casa I ragazzi da casa Cioè veramente Ah comunque è entrato il nuovo ragazzo Voi potete entrare in spectator Eh ragazzi Ragazzi io non voglio più chiamare i duniziani Vi dico la verità perché praticamente Ma come? È brutto duniziani Mi sono reso conto Potrei chiamarvi in tanti modi Tipo pillole No è scherzo Oppure potrei chiamare Come potrei chiamare? Non lo so In tanti modi diversi Comunque anche i ragazzi va bene E vabbè insomma Ci penso comunque tranquilli Intanto stiamo lavorando a nuove serie Perché sapete no? Eh sì esatto Eh esatto Nuove nuove serie bellissimi Sembrazissimi Ah comunque io e nonno abbiamo fatto Ok perfetto Allora quindi mi posso tipare da voi per caso? Esatto esatto Ok allora mi tipo da Gabri Vabbè tanto ero uguale Esatto Non ti offendere nonno Non è una preferenza No non mi offende Non mi offende Semplicemente sei un po' vecchiotto quindi No No povero Vabbè allora Quindi dimmi un po' Qua è acqua vento fuoco aria Dimmi un po' Più o meno Si sta scaldando Ma non tanto Quindi immagino da questa parte Sì Ok perfetto Quindi da questa parte Più o meno si sta iniziando a scaldare No Eh così si raffredda però Eh adesso iniziate a romper le palle Allora Scusate mica l'avete rascosto qua vero? No 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 Non ci sono neanche casse qui dentro Oh guarda Tu unissi il pollo Ma vai a quel Mamma mia Io vorrei dire tante di quelle cose Ma purtroppo YouTube Non si possono dire No non potete Schifosi Non dite mai queste cose Perché sennò Mi hai dato un pollo Ah ciao signore Ah che cari No povero No Eh mi stavo antipatico Sì guarda che faccia che ha Sì C'ha una faccia proprio giù Ma dov'è? Dov'è? Dov'è andato? Guarda 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 Hai ragione dai È proprio antipatico Guarda che schifoso Ma no povero Ma come è così piccolo No non è crudele Cioè basta Secondo me ha qualche problema Comunque Lui uccide Vabbè no Non diciamo cose Perché sennò poi dopo Ma scusate qua Com'è che va la vita? No no ma non è qui Così l'acqua proprio si sta raffreddando È così si sta scaldando Ok quindi qua si sta scaldando Ma voi potete parlare sempre Mentre siete in due Non lo so Eh no 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 Scusi Dunice Cioè non lo so io No perché Chiediamo venia Eh La nonna qui c'è Vedi che non Ah questa è la nonna Gelsomina Ti piace? Guarda È proprio È un po' robusta Vedi È un po' È bellissima È un po' Ma sei bella Salve Cosa che schifo Mamma mia Vabbè Qua lasciamogli fare le loro cose No ma così l'acqua si raffredda però Vabbè Andiamo qua dentro Dai forza Intruffoliamoci qua sotto È qua sotto giusto? Eh allora No vabbè Eh L'acqua così si raffredda Eh dimmi dimmi Gabri soprattutto te Allora Quando Tu cosa hai imparato da Dunisi In tutto sto tempo? A rispondere in due secondi giusto? Eh sì Quindi puoi rispondere A me sembra di rispondere subito Anche a me Eh mi spiace Non è così Non è così Ma come? Non siete concentrati a quanto pare Scusate È da questa parte? No no Così l'acqua si è raffreddata Oh ma Dio Allora No così Così fredda Scusami quindi per forza da qua Gabri Eh sì Perché sei deficiente Mi hai detto che qua si riscaldava Riscaldava Eh? Appunto se si scalda è più vicino No no Avete detto che mi si raffreddava Mi ero confuso Ah è buono Lo so Mi ero confuso anche io allora Vabbè ok Allora Dimmi un po' qua Com'è che sta? Così fredda Ok Allora dobbiamo fare il giro di tutte le Qua invece com'è? Eh no così Ghiacciata No lascia stare Ma vai Ma io veramente questo Così fredda Adesso stai zitto tu E mi dice no Nonno Va bene Vai Qua? No Lascia stare Lascia stare qua Un brutto posto Ok quindi non va bene questo posto Invece qua Sì esatto Eh potrebbe essere Scusa no 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 Tu non stai rispondendo Entro Entro quando io ti parlo Tu mi stai rispondendo No no Io risposto subito No Allora facciamo una prova Facciamo una prova Allora Io ti dico una cosa Queste sono le prove doniziani Io ti dico Ragazzi Scherzavo non vi chiamo più doniziani Allora Io ti dico una cosa Tipo ti dico Di dire ciao Io ti dico via Tu devi dire ciao Ok praticamente Appena io ti dico via Quindi Ok 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 È un'impresa Mi preparo Aspetta Ok vai 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 3 2 1 Via Ciao Madonna mia No 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 Come Eh come No come Rifacciamo un attimo Perché può Allora 3 2 1 Via Ciao Dopo 2 Dopo subito No 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 Mi sa che la tua connessione Fa un po' stifo Eh Dai fatti Eh Quello è risaputo Eh mi sa di sì Allora Gabri vieni Dimmi dimmi Scherzavo Nonno non mi dice più niente Dimmi tu Ma no povero nonno Eh così sei vicino Quindi da questa parte Mi stai dicendo No no di qua no Di qua no Ma la tua non mi ricordo neanche io Come Ah beh perfetto Beh è bello Io sì sì No così si raffredda Da questa No no Da qua no Madonna ma io veramente ragazzi No di qua no Lì è troppe casse Ma dove le abbiamo messo Eh Eh sì Però in quale cassa eh Una di queste perfetto Senti io non ho voglia di aprire le 20 casse Quindi adesso mi dici qual è la cassa Vabbè è questa Ok perfetto Grazie dell'armatura E fate un po' schifo Ok No Allora adesso tocca a me Qual è il tuo Allora Facciamo che Gabri Dammi il tuo Tridente Va bene Certo che ce l'hai con il mio Tridente Eh sì perché la tua armatura Sai come l'hai chiamato in un modo un po' Impronunciabile Eh lo so Lo so È meglio non dire E tutto quanto family friendly ragazzi Almeno non rubi la mia armatura Allora Se no te la posso cancellare No 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 È preziosissima la mia armatura Ci ho messo tantissimo a farla Boh decidi tu insomma Non vorrei mai Non vorrei mai perderla Vabbè se lo dici tu Insomma Comunque Scusami Però è vero Io non devo guardare Infatti sei deficiente Infatti devi saperrare E non muoverti da lì Allora Vediamo una Io già Nonno vieni con me Io Arrivo Bravo Gli hai messo una foglia Io ho già una cassa E praticamente questa cassa Io la devo mettere nel sedere No scherzo Io la devo mettere Perfetto Ah perfetto Cosa Sì 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 nel sedere assolutamente Vabbè no Allora praticamente Dobbiamo mettergliela In un posto In un posto molto sicuro Praticamente no E quindi Se non andiamo da queste parti No non so se tu stai capendo Ma da queste parti Ci intruffoliamo E adesso Qua stiamo In una caverna Come tu Ben puoi vedere no Stiamo dando indizi a Gabri Sì 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 Che caverna Eh che cavernora Grossa proprio Sì proprio grossa Mamma mia E poi con Ed era 1.17 poi Cioè tu non so se stai Eh però così Mi state dicendo Dove state nascondendo Però eh E qualche miseria Non ci avevamo proprio pensato Mi spiace No vabbè siamo un po' stupidi Un pochino stupidi Lo siamo Scherzo qua Possiamo fare così Ok perfetto Meno male che tu Gabri ci hai detto Questa cosa Adesso Eh sì sì Sono saltevo Cioè Eh esatto Era troppo semplice Per me Eh esatto Troppo semplice Non andava meglio No facciamo subito Eh scusa ma tu stai dormendo No 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 Ma cos'è Cos'è successo poi Ma cioè stai Ma come Hai qualche Non lo so L'influenza equina Cioè No L'influenza del magliare Del cavallo Cosa ne so io Cosa Cioè Povero Un po' di difficoltà Insomma Nel parlare Vabbè Allora Gabri Concentrazione Sì 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 Mi sa che adesso Nonna e la nonna Si possono ben Mettere insieme No Eh che schifo Ah ho visto la cosa Già le scoffe Sì tipo avete presente Le scoffe che hanno Tutto quanto così No ma non fa casino Le scoffe Come no Hai mai sentito Quando tipo Povero scoffe Fanno così le scoffe No io non lo faccio Dove stai andando Eh non lo so Di qua No Gabri No 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 Lascia stare Di qua No 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 Non so È di qua Da questa parte Più o meno Qua Sì 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 Esattamente Eh infatti Qua è una specie Di caverna Quindi Sì ma noi Non lo abbiamo passato Scusate La regola è che Duni deve passare davanti Sele per questo video Perché No 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 Scherzavo Quindi da questa parte Sì Ok Perché se no Nei tuoi video Cosa si vede È piccato che sono io Che cerco Sennò Mi dice Nascondiglio Adesso No devi stare dietro Adesso No scusa Adesso Gabri Vieni qua davanti E vai Forza su Marcia Avanti Ah forse ho capito È di qua Allora forse Può darsi No Qua da questa parte Si raffredda Ma come Sì esatto No qua infatti Non c'è Che caspita è sta roba Assolutamente no Pensavo che era qui Ok Qua tu Devi girare un attimo Capito Devi un po' Ah allora è in casa di nonno Può essere No 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 Non è in casa mia Allora tu devi decidere una direzione Ok Gabri Ho il dubbio Vabbè ok Allora facciamogli Nonno Nonno Eh ma fa tutto schifo lì dentro Sì Ma qui non c'è niente Dietro Grazie Eh scusa Eh Vedi Gabri Non c'è niente Eh no non è qui Allora è nella miniera di nonno No Perdi solo tempo No no Lascia stare Prendi una direzione Prendi una direzione E vai Eh non lo so Ah forse è qua sopra No qua sopra no Di qua Esatto da questa parte Stai andando verso il fuoco Ok qua c'è Ah Qua no Se non scendi È di nuovo acqua Se non scendi Dato un'indizione Gabri Ah quindi devo scendere Quindi devi scendere Ah eh sì Però E qua Ecco qui Eccolo qui Fermi un attimo Fermi un attimo Oh Allora Allora Primo Io non so cosa che è successo adesso con nonno Secondo me un po' Secondo me questa è la vecchia Allora Sono un mago io Ma perché c'è un endermite di qui Se mi interrompi un'altra volta Gabri No 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 Non volevo Questo è un discorso serio Poi voi stavate parlando l'uno sopra l'altro E non si capiva niente Come? Quindi per l'amor del santo papà però Per favore State attenti quando uno parla Che l'altro non deve parlare Mannaggia a voi Gabri Eh va bene Eh va bene Dovresti essere abituato Perché nonno poverino È nuovo Quindi dovresti essere abituato a sapere queste cose Perché non sei abituato e non le sai queste cose? Eh non lo so Tu nonno Presta per stazione Mannaggia a te Soprattutto non morire venti volte Ma porca miseria Non lo so Cioè mi accompagno con gente Da Eh la russa Fiorello Esatto Comunque Gabri prenditi il tuo schifo di tridente Che non vale niente Eh l'ho già preso Ok allora dammi la mia Anzi guarda io non sto qua Mi devi servire Oh grazie Hai capito subito Hai capito Molto bravo Adesso Eh vedi vedi Adesso dove Siamo a 14 minuti Direi che ci possiamo fermare qua No Sì 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 Perché fare venti minuti è un po' troppino Eh direi No giusto Ebbè Quindi ragazzi fateci sapere se volete vedere altri di questi bellissimi Di questi bellissimi Di questi bellissimi Eh sì Che schifo nonno Che è ancora pervertito da questi anni Io veramente non so Cioè io boh Io non ho parole Quindi ragazzi Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao